Gela si è mobilitata per dare il proprio contributo a seguito del spaventoso terremoto che si è verificato giorni dietro nel centro d'Italia con morti, devastazioni, lutti. La FIDAS ADAS si è unita all'appello lanciato dalla FIDAS nazionale in merito alla programmazione della donazione del sangue. Il centro nazionale sangue ha attivato il piano strategico nazionale per il supporto trasfusionale nelle maxi emergenze per far fronte alle eventuali necessità trasfusionali dei feriti nelle province interessate. Si è mossa anche l'ADAS di Gela. L'attività dell'unità di raccolta di Via degli Appennini 5 in città prosegue regolarmente per quanti volessero manifestare la propria solidarietà nei giorni previsti, lunedì, mercoledì, venerdì e domenica mattina. Per qualsiasi informazione si può contattare il numero telefonico 0933 825 5551 oppure il 338 2396 225. In considerazione del periodo che siamo, invito tutti a donare. Vi ricordo sempre che il sangue non lo troviamo in farmacia, ma è un atto d'amore che noi facciamo verso noi stessi e verso il nostro prossimo. Siamo in un periodo di emergenza in considerazione anche dei fatti che sono accaduti in Italia con il terremoto, dove praticamente in particolare in questi momenti abbiamo bisogno di sangue, sangue che possiamo solo trovare se noi stessi doniamo. Il sangue voglio ricordare a tutti i nostri donatori che fa bene, io dico e consiglio sempre che fa bene per tre volte. Uno perché facciamo dei beni ai nostri fratelli, l'altro perché riusciamo a tenere sotto controllo la stessa salute nostra. Infatti dico sempre a tutte le mamme dei ragazzi che vengono a donare che avere un figlio donatore significa avere un figlio sano, in quanto viene controllato e monitorato il suo stato di salute in continuazione. Invito a essere tutti dei donatori in maniera continua, anche perché in questa maniera assicuriamo che il sangue sia controllato e testato continuamente e quindi riusciamo ad avere un sangue che non ci crea nessun problema. Donare è una cosa che ho sempre sentito nel mio cuore, fare qualcosa di mio senza che nessuno mi obbliga per gli altri. Ecco, e questa è la cinquantottesima donazione, quindi per me è diventata una routine quotidiana. Magari ora dono ogni sei mesi, ma prima donavo ogni tre mesi, è una cosa quotidiana per me, ecco, si è sentita. Pochi minuti della tua vita possono salvare altre vite, questo è il motivo principale.